Su con la vita, che a fare il volontario ti si aprono gli orizzonti! Forza! Stiamo tutti aspettando te! Basta, non ne posso più, voglio andare a casa! Certo che andiamo a casa! A casa di chi ha bisogno? Lanto ogni giorno assiste a domicilio i malati di tumore, gratuitamente e con amore. Aspettatemi!